Musica Musica Ben trovati a voi tutti ad una nuova puntata di Insieme Oltre il 2000. Oggi parliamo di istruzione, di montagna del nostro territorio e ne parliamo in compagnia delle rappresentanti della CAI. In particolar modo saluto e ringrazio Daniela Mangiola che è operatore naturalistico culturale nazionale del CAI, nonché componente del CAI di Belluno. Ben trovata Mangiola. Grazie. Accompagnata da Antonella Fornari che è membro accademico del gruppo italiano scrittori di montagna, nonché presidente del CAI di Calalzo. Ben trovata Fornari. Ben trovati a voi. Grazie per essere qui con noi signore. Anche in vista di un appuntamento importante, quello della giornata internazionale della montagna che ricorre proprio l'11 dicembre, noi raccontiamo un'iniziativa, una progettualità che vi ha visto protagonista in prima persona, dedicata agli studenti, dedicata ai giovani del nostro territorio. Alunea, lezione di grande guerra e di tempesta vaia. Daniela, partirei proprio con lei con raccontarci, con illustrarci questa progettualità. Il tutto è iniziato due anni fa quando il professor Chemello mi ha proposto la possibilità di concorrere ad un bando della regione Veneto, proposto dalla regione in accordo con la presidenza del Consiglio, un bando che ha come finalità una valorizzazione dei territori del Bellunese, colpiti cento anni fa dalla grande guerra e poi devastati a distanza di cento anni dalla tempesta vaia. La cosa mi è piaciuta perché mi dava la possibilità di rientrare in qualche modo in classe e oltretutto il CAI di Belluno ha una stretta relazione con le scuole, quindi è facile avere le porte aperte e quindi abbiamo proposto questa iniziativa alle scuole, un'iniziativa che prevedeva due interventi, una in classe di preparazione, di lezione, una lezione dedicata alla grande guerra come fatto storico e una seconda dedicata appunto alla tempesta vaia e a queste lezioni doveva poi seguire un'escursione. Prima di questo però dimenticavo c'era anche, è stato realizzato un convegno rivolto agli insegnanti in preparazione di questa attività. Ecco, a lunedì che età parliamo? Abbiamo coinvolto le terze medie perché legate chiaramente allo studio della grande guerra e le superiori, le quarte degli istituti superiori. Quali sono state le sinergie che avete presentato ai ragazzi? Comunque le similitudini o i riferimenti, diciamo, a questi due macro temi? Beh, io ho sviluppato il tema vaia, quindi ho presentato la tempesta, grazie chiaramente alle tecnologie moderne la possiamo rivedere in azione perfettamente, mettendo in evidenza gli effetti che ha avuto sul territorio, soprattutto sui boschi, ma non soltanto, tutti pensano alla tempesta vaia come la distruttrice del bosco. In realtà è stata anche distruttrice della montagna e ci sono degli studi fatti dall'Università di Padova che ce lo dimostra. Per cui si illustrati questi effetti sul territorio, mi sono però anche soffermata ad evidenziare la reazione della popolazione, quindi quello che io ho definito l'uomo di montagna, quali devono essere, quali sono le sue caratteristiche e come non sia un soggetto che nasce in montagna automaticamente, ma si debba formare e sia chiaramente un'esperienza non semplice, non facile. In più ho evidenziato come la frequentazione della montagna si è cambiata attraverso i secoli e si prospetti, si presenti ora in una modalità che è poco rispettosa dell'ambiente stesso. Quali sono state, Mangiola, un pochino le reazioni degli studenti anche nell'affrontare queste tematiche? Per quanto riguarda la mia lezione, io ho un unico commento a caldo che mi è stato fatto, che mi pare quanto mai significativo, un ragazzo di terza media della scuola Tina Merlin di Belluno, alla fine della lezione mi ho chiesto, beh vi è piaciuto, vi è interessato, guardi io di solito non ascolto nulla della lezione, questa volta non ho perso neanche una parola. La spontaneità insomma dei nostri giovani. La sincerità mi conforta. Antonella Fornari, lei come rappresentante appunto del gruppo italiano scrittori di montagna ha descritto gli effetti della guerra sulla montagna modellata dal lavoro dei soldati, ecco oltre a questi c'erano anche gli effetti sulla psiche dei combattenti stessi, anche con lei mi piacerebbe avere la sua impressione. Sicuramente la grande guerra ha avuto un effetto devastante sul territorio soprattutto ed è per questo forse che abbiamo trovato anche questo modo di collegare quello che è stato anche l'evento catastrofico di Vaia, quindi collegare quegli eventi che hanno lasciato un profondo segno sul territorio, purtroppo un segno negativo, ma non solo a dire il vero. La grande guerra sicuramente è stato forse un evento che in quel momento le nostre montagne non avevano mai vissuto, le montagne che sono state popolate da questo popolo diverso, un popolo in divisa, un popolo molte volte non consapevole dell'ambiente e della montagna, un popolo che si è trovato costretto quindi a modificare quello che era l'ambiente, un ambiente che si è trovato modificato per il lavoro dell'uomo, modificato per gli eventi tragici quali potevano essere i combattimenti delle artiglierie, oppure proprio quelle particolari tecniche che venivano sviluppate per poter arrivare a controllare o conquistare le posizioni avversarie, quindi lo scavo di gallerie, la costruzione della città di ghiaccio in marmolada, tutti quegli eventi che hanno lasciato un profondo segno e che tuttora rappresentano un modo, e questo forse è stato anche l'input che ci ha portato anche a far toccare ai ragazzi con mano questa realtà per poter ancora vedere questo evento che si è materializzato, che si è creato sulle montagne. E come tutti i grandi eventi, come del resto anche Vaia, anche la Grande Guerra ha lasciato dei segni profondi non solo sulle montagne, non solo nell'ambiente, ma anche in quello che poteva essere l'equilibrio delle popolazioni. Quindi il cambiamento innanzitutto, la presenza di questo popolo sulle montagne, di questo popolo nei paesi, cambiamento di quelli che potevano essere gli usi e i costumi, cambiamenti che a volte sono stati positivi, a volte negativi, cambiamenti anche nelle consuetudini, nelle cose di tutti i giorni, come potevano essere anche le abitudini alimentari, il modo di vestirsi, il modo di approcciarsi alla montagna. E poi la devastazione sulla mente di questi ragazzi, di questi uomini che all'improvviso si sono stati costretti ad abbandonare la quotidianità per salire sulle montagne ed affrontare non solo la guerra, ma questo altro grande, straordinario, affascinante avversario o nemico, chiamiamolo così in quel momento che poteva essere la montagna. Quindi è chiaro che questi eventi catastrofici, vai a grande guerra, hanno avuto, sebbene all'apparenza non ne diano tanto l'idea, hanno avuto proprio il modo di essere collegati. Quindi anche con Daniela abbiamo avuto modo di ritrovarci anche su molti temi da poter discutere con i ragazzi in ambiente e questo è stato estremamente positivo. Infatti stiamo vedendo anche grazie all'aiuto della regia, proprio delle immagini, delle fotografie che ci testimoniano queste visite, queste esperienze che voi avete condotto. Ci ricorda Antonella appunto alcuni luoghi? Ecco, anche questi luoghi, anche con Daniela li abbiamo un po' scelti. Diciamo che io sono una frequentatrice assidua perché tutti i miei lavori sono concentrati sì sulla montagna ma soprattutto sulla grande guerra, sui segni, sulle storie, le piccole storie. Dico sempre la piccola storia di tutti i giorni che si inframmette, che si inframmezza quella che è la grande storia. Abbiamo cercato di scegliere anche delle mete che non fossero particolarmente faticose e quindi dessero ai ragazzi la possibilità di fermarsi, ad ascoltarci e soprattutto ad osservare, perché questo di osservare l'ambiente, di osservare la natura purtroppo è qualcosa che ai nostri ragazzi a volte manca e quindi questo è stato un momento particolare. Per cui dalle pendici del sasso di stria a svolgere l'itinerario dedicato a Gilberto Salvatore, che era un vecchio compianto presidente della sezione del club alpino di Divina Lungo, uomo di centro Italia, quasi al sud, il quale era appassionatissimo di montagne e quindi si è trasferito alla postazione della Cresta Gallina, del Col Gallina, affascinante perché lì sono state anche in parti ricostruite, al villaggio Falzarego, quindi luoghi che oltre alla magnificenza della montagna di fronte a cui molti ragazzi sono rimasti a dire il vero estasiati. Infatti proprio questo mi piaceva chiederle, cosa ha letto nei loro occhi? Allora, difficilmente devo dire tu Daniela dimmi, difficilmente ha letto Noia, c'era sempre la curiosità per qualcosa, perché comunque la montagna ad ogni passo ti offre qualcosa su cui riflettere e questi luoghi sono luoghi, non abbiamo scelto luoghi di grandi combattimenti, ma luoghi dove si viveva e quindi i ragazzi sono estremamente affascinati da questo e soprattutto dal ritrovo delle piccole cose che ancora il territorio offre. Per loro era straordinario trovare magari non so, il bossolo di un colpo di fucile, un pezzo di vetro, un frammento di porcellana, qualcosa che ricordasse quella vita su cui poi ricostruire le storie. Però c'è anche il risvolto della guerra, che non è solo la vita di tutti i giorni come abbiamo potuto vedere e come abbiamo potuto assaporare, ma c'era anche il risvolto del prezzo chiesto da questa guerra. Per cui abbiamo pensato alla fine delle nostre uscite, l'ultima delle quali è stata dedicata al centro Cadore anche per questioni meteorologiche, ma è stata un'esperienza molto positiva, restando in bassa quota, al col cianpone, ai piedi del monte Tudai, però di chiudere queste esperienze con la visita ad un sacrario, quindi il contatto è quello che è il risvolto veramente doloroso della guerra, che è la perdita della vita, i soldati dispersi, loro che in qualche modo non sono mai tornati a casa, per arrivare al sacrario amma della guerra. Sì, quindi il ricordo di tutto questo, il ricordo delle testimonianze dei diari, dei testamenti morali, Daniele ha portato quella di Mario Fusetti. Sì, era una strategia adottata, è stata appunto quella di proporre la lettura del testamento di Mario Fusetti da parte dei ragazzi, qualche immagine, ma lo ricordava. Ma poi c'è stato anche un altro intervento, direi, efficace. Innanzitutto va ricordato che le escursioni sono state appunto possibili perché c'è stata la collaborazione degli accompagnatori del CAI e in questo caso, in modo particolare, degli alpini dell'ANA. Giovanni Spessotto ha sempre coinvolto i ragazzi nel racconto delle imprese di Angelo Schiocchette. In più c'è stato Daniele Sotton che ha avuto una brillante idea, ha proposto il gioco della guerra, tradotto, lo si vedeva nelle immagini che hanno presentato prima. Lui si poneva in cima ad un masso e i ragazzi dovevano avvicinarsi per attaccarlo senza farsi vedere. Nessun ragazzo si è tirato indietro, cioè strisciare per terra, entrare negli arbusti, farsi male, anche le ragazze, è una cosa che li ha decisamente entusiasmati. Una cosa che ho notato, ad esempio, i ragazzi delle medie hanno affrontato questa esperienza veramente con entusiasmo e con gioia. Ci sono appunto alcune interviste che ha fatto loro che lo testimoniano. Per dire poi quando scendevano in Pullman una classe, ad esempio, la terza B di Latina Merlin, sono scesi sempre cantando, cantando canzoni di montagna. I ragazzi delle superiori sono scesi dormendo. Differenze anche di età, magari modi diversi di approcciare. Il coinvolgimento è diverso, sicuramente diverso. Senta, Daniela, il nostro tempo purtroppo sta per concludersi, però diciamo con questa iniziativa qual era comunque l'obiettivo del CAI, di questo progetto? Allora, noi siamo contenti di quanto fatto. Di fatto, nonostante le difficoltà che la pandemia c'è al posto, dai commenti fatti, dai lavori appunto di scuola, che non posso qui riferire e leggere nel dettaglio, hanno rivelato il loro entusiasmo per un'esperienza all'aperto, l'ammirazione per i panorami che avevano intorno, la tristezza per la visita del Sacrario, quindi una sensibilità nei confronti anche di quelle che sono le proposte che abbiamo fatto. Per cui la valorizzazione del territorio, secondo me, si è decisamente ottenuta. Ecco, se per valorizzazione uno non intende arricchire il territorio, ma farlo amare. E si capisce anche come il mondo del volontariato possa contribuire appunto. Considerato che l'80%, fatta l'indagine nelle varie classi, l'80% di questi ragazzi, lì in montagna, non c'erano mai stati. Ecco, quindi un'occasione importante di crescita. Dove si possono trovare comunque, Daniela, ulteriori riferimenti a questa progettualità se qualche nostro telespettatore fosse interessato così magari a conoscere un po' meglio questa iniziativa? Stiamo realizzando una pubblicazione che riporta le escursioni, che fa un po' da guida alle escursioni, all'interno della quale ci saranno tutti i link utili per vedere i filmati che sono stati realizzati nel corso delle escursioni. Ecco, allora io ringrazio le nostre ospiti, grazie Daniela Mangiola, grazie Antonella Fornari per essere state con noi e buon lavoro ovviamente per le prossime e le future attività. Grazie. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.